Napoli si prepara ad accogliere i tifosi inglesi in arrivo nel capoluogo campano per assistere questa sera al match tra Napoli e Liverpool, in programma allo Stadio San Paolo. Ieri sera un gruppo di tifosi della squadra inglese a Napoli è stato aggredito nei pressi di un bar di via Cesare Rosarol. Gli ultra inglesi hanno raccontato alla polizia di essere stati avvicinati da alcuni giovani con accento napoletano, che senza apparente motivo li hanno picchiati. Uno dei tifosi, un ragazzo di 26 anni, è stato medicato all'oretto mare per ferite lacero contuse e dimesso con prognosi di 15 giorni. Presideremo i luoghi della Movida, questo è un aspetto a cui diamo priorità, ha spiegato il questore di Napoli Antonio De Jesu. Intanto ieri pomeriggio seduta di allenamento con il gruppo diviso in due parti, tra chi è sceso in campo a Torino e chi contro la Juve è invece riposato. Ci sarà qualche cambio in formazione, probabilmente sulle fasce. Ballottaggi tra Amsic e Fabian Ruiz, che potrebbe giocare anche da ala. Uno tra Insigne, Mertens e Milik, sarà inizialmente fuori. Non è decisiva, ma non possiamo sbagliare, ha ammesso Ancellotti alla vigilia. Il risultato dipenderà dall'abilità di imporre la nostra strategia, gestendo meglio i momenti di sofferenza, che sicuramente ci saranno. Il Liverpool è in grande forma, giocheremo in maniera offensiva, ma con l'intelligenza di non scoprirci alle loro ripartenze. L'aspetto da migliorare è sicuramente la gestione dei momenti di difficoltà, che ci saranno anche domani, che ci sono stati domenica. Sicuramente una delle chiavi della partita di domani sarà la gestione dei momenti di difficoltà. Perché, come ho detto, quando giochi contro squadre di questo livello non puoi pensare di avere il totale controllo.